And it's you that I want and need Edward Enigma, alias l'enigmista, è ossessionato dagli enigmi, dai rompicapi e dai giochi di parole. Si diverte a lasciare indizi per Batman sulla scena dei suoi crimini, che in genere lo elevano sempre alla sua perdizione. Usando una tecnologia sviluppata apposta per il suo bastone, può controllare veramente degli altri. Benvenuti! Siamo tornati su Lego Batman, la quinta puntata, quella che potrebbe essere la fine del primo capitolo del gioco. Mamma mia, grazie per il supporto, per questa serie. Che stanno andando avanti da Dio, talmente stanno spedita che siamo forse alla fine. Ma partiamo subito, bando alle ciance. E ciancio alle ciance. E sempre con sta cazzo di scatola, vuota, piena di pezzi. Piena di pezzi che non si capisce. Ma io non prendo la di... Ah ma sono andato... Dai! Cos'ha Alfred, che bello che è? Ehi, buongiorno. Ma un pezzo, c'ha il coso le gomma senza capire. Cos'è sta roba? La tua Eiffel. La tua, la tua Eiffel. Manca un pezzo che prendiamo... No. Cos'è che è? Ah no, è il castello. Di due facce. Esatto. Che cazzo hai montato, Roby? La torre... Ssssshh! Ho rincoglionito il tuo personaggio. Regatta che io ho scelto apposta. Cazzo di rincoglionito. Eccoli, beh, 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 beh. Ma quanto è sgarpa. Ha messo il cavalletto. Eh, beh, non è che piava due volte. Sei, sei volte. Vieni. Ah, aspetta, sto guardando la telecamera. Oh! Ok. Sì, guarda la telecamera. No, perché tanto io a volte scompaio per quello. Ma intanto io vengo cartonato male. Senti, io intanto prendo... Big money. Investimi. Mi sono schiantato. Sai che mi hai investito vero? Fa niente. Meglio di essere investito. Ah! Una testa. Penso, no. Penso che qua tu debba trasformarti nel tuo... Aff... Aspetta. Sfermo pianta di picchiarmi! Cos'è sta roba? Sto costruendo. Anzi, sai questo? Bello. L... Ah, c'è sotto il mio. No. No, 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 no. È una S. Che cazzo succede qua? Ma qua bisogna pigiare. Aspetta, qua c'è un telefono. Fammi entrare, fammi entrare qua. C'era il telefono da rompere. Ah. Eccoci. Beh, guarda, guardalo. Vai. Tira la leva. Tira la leva. Aspetta che sono già da parte sbagliata. Aspetta. Si è buggato un po' di me. Ok. Adesso entri con la macchina. Esatto. Dai, tu guida. Guido io. Me, me. Autolavaggi. Ma che è la Sia? Cos'è? Ma lei parcheggiare dritto almeno. C'è lo scanner retinico. Sì, ma io sono dietro così dal palco. C'è paura. Ma vuoi entrare? Sì, intanto a me mi cartola. Ma perché mi diventavo... Ma scendete da qua, per favore. Perché dovete... Cos'è che fa? Lo lanciato. Ok. Dei problemi a salire. Ecco, ce l'ho fatto. Ok. Ok. Siamo dei killer. Ma c'è una leva. E picchi a me. Mamma mia, che palle. No, 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 no. Abbiamo fatto un errore. E l'ascensore è lì. Vai, salilo. Sali. Aspetta che qua c'è qualcosa. C'è un costume di sicuro. E' mio, infatti. Ma dov'è? C'è un costume mio. Ah, è qua. È molto tempo. Eh, arrivo. Aspetta. Allora. Costume da montare, ragazzi. Col bellissimo naso di Lello. Io non lo faccio a posto, ragazzi. Quello col deltaplano. Costume. Vai, provo a salire. O do' salire io? No, salgo io perché tu vuoi. Ah, giusto. Vai. Salirò, salirò. Sì, ma quando? Sei stupido. Aspetta che se non sotto mi schiacci. Se sei comprensato con quello. Quando sarò solamente un ricordo. E' una toccava a te a salire. Eh, vaffanculo. Vieni. Eh, il bug fa niente. Aspetta che devo spingere dal verde. Arrivò. Vieni vicino che se no non vedo dove salto. Oh no! Il coso rosso? No, non dovevi prendere il coso rosso. Eh, mi sa anche a me. Però mi sa che dovevo atterrare il coso rosso. O no? No, no, è vero, è vero, è vero. No, no, ti fa male il coso rosso. Volevo passare sul filo io. Sì, è del rasoio. No! Basta cadere. Non è che serve ancora il camion. Ero male che non l'hai visto. Mi sa che serve ancora il camion. Vado a prenderlo. Ah, vai prenderlo. Vado a prenderlo. Io anch'io sono una telecamera. Ma puttane! Non ci credo. Madonna che culo. Madonna che culo. Vai, sali. Hai a pressione sta cosa. Adesso tocca a me. Batte Nordi! Ok. Ah, ma io sono qui. Io rompo tutto. Madonna ragazzi. Le drogocorse su Batman Lego. Che prendono le a ma... Cos'ho detto? No, no, è mia, è mia. È mia, la moto è mia. Va bene. Perché la moto è di Robin. Sì, ma non la vedo più la moto. Uuuu, che sto a fare? Uuuu, guarda come va. Io rompo cosa. Mi sa che serve il tuo... Se vuoi. Esatto. Il tuo costume. Ma perché a me li monti i tuoi costume? Eh, perché tu vai in giro con la moto. Ragazzi, ma ancora questo. Ma adesso un pezzino. Vai, prendi tutti questi pezzi che lasciano roba. Ma non è questo. Questo è quello che sta arrampicando sul vetro. Sul vetro. Sul... Qua sono. Sono qua. Un po' se mi sparano? Sono qua. Oddio! Sono qua. Spero che te li rompo. È immort... Te li sto rompendo. Sì. Sono questi qua. Adesso non ti sparano. Cosa che stai dicendo? Lo vedi questo? Sì, prova. Vai te. Ma io non c'ho svolto. Se muori sei un fail, te lo dico. Allora, ti assicuro che non succede più. Vai. Ok. Ecco il telecomandino lì. Esatto. Però adesso qua... Faccio addosso con la mano. No, bisogna rompere tutto qua. Va bene, lo faccio io. Ah, torna... Guarda di qua. Vieni di qui. Ragazzi, lei non mi ascolta. Mi copre e basta. Spero qua. Vedi che devi saltare sopra sto affare? Tu con i tuoi cosi magnetici. Eh, non l'avevo mica visto. Non l'avevo visto. Ragazzi. Io sto in secondo piano. Vedi? Ma non è vero. Tu! Tu che ci stai guardando, che caghi il cazzo. Vedi che siamo una coppia e nessuno arriva prima di nessuno. Aspetta. Ok. Ah, porca vacca. Perché è una cosa per le tue ali, questa. Vedi? Perché sei un pippo. No! Non ci possa arrivare. Sei un pippo! Non ci possa arrivare. Dio buono. Eh, Dio sbombo. Vai, saltalo. Dio buonino. Cosa devo saltare? No, io saltano. Robin, costume magnetico. Ah, lo so che... Dai, dai di qua. Ok, ok, ci siamo. Dai, salta, ti so. Benissimo. Eh, non ve lo so più dove sono. Te trasportati. Eh, va che puoi arrivare anche tu, eh. No! Ti scommetti. Che siete un pippo. Che figura di merda! Non provi, vai! Non danno benigine! Ma guarda come si sposta, d'altro. Guarda con colpi di reni. Sì, dai! Ce la possiamo fare. Eccolo. Ops. Eh, ops. Ti prego, vieni giù. Non voglio salire io. Ragazzi, scuola di addrestramento. Se una cosa non mi viene, non mi viene. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Non mi riesce. Dai, salta piano. Eh? Ma! Oh, bravo. Dai, vieni, vieni. Ah, non mi viene quell'altro salto! Devi far così. Ah, ecco, vieni. Egli qua, salti in alto. Ah, io saltavo da prima. Eh. Bravissimo! Aspetta! Perché saltavo da prima. Grazie. Vai, salta. Tiobonino. Oh, vai. Ci siamo. Qua cos'è? Questo è mio. Vai, fai tutto tu. Io rompo sti colpi. Ma cosa sarà, secondo te? È qualcosa che adesso attivare. Ah, no. Prima devo attivare anche questo. Eh, no. Allora, vai. Zua. Quindi? Abbiamo spesso i raggi là. Siamo due deficienti. Siamo due deficienti, c'è, meraviglio. Scendi! Scendilo! Eh, perché pensavamo che non ne venusce a fare. Ecco. Stato che ho montato un robot. Dai, muoviti, vieni. Mamma mia. Roppilo, rompilo, prima che scende. Vai. Eh, festa bene, Will. Sì, giusto. Eccoci. La chiave famosa. Tu, vai lì. Ma quindi, là dove ci sono i raggi, non ci doveva proprio passare. No, penso che bisogna fare una misura. C'è una misura diversa. Bum. Mamma mia, lo slime. Lo slime. Come si allarga bene? Scioglie tutto. Abbiamo, possiamo avere un problema, ragazzi? Che è quello della telecamera, quindi se si spegne non è colpa nostra. Non è colpa nostra. Però comunque il resto del gameplay senza le nostre faccione, lo vedrete, lo sentirete. Esatto. Tanto qua c'è due facce che spara. Io, io prendo due facce. Ma perché picchi me? Ma se sto picchiando due facce. Non è vero, assolutamente. No! Eh, ho seguito. Lui può camminare qui. Io lo seguivo, infatti. Guarda qua. Sai cosa sono questi? Sì, i pezzi che puoi raccogliare di solito. Sì, se vieni qua magari. No, è qua. No, è vero che ho l'altro potere io. È qua il tuo costume. Esatto. Vai, montatelo da solo. Vai, io volo qui. Sono pezzettini che vuoi. Aspettalo. Esatto. C'è il costume da raccogliere la roba. Dai, vieni qui. Prendi questi pezzi. Aspettate che c'ho quelli là. Beh, ciao ragazzi. La telecamera in questo momento se n'è andata. Bella. Però il gameplay continuerà le nostre voci si sentiranno allo stesso. Come faccio ad arrivare lì? Saltando. Con il platform. Le figure di merda di Max. Eh, si è ritorno. Ah no, ma mi hai rispavolato sopra lo slime. Ecco, torna tu. Dai, salta. Ce l'ha poi un po' di rincorso. Ma perché muoio? Vai, risucchia tutto. Ragazzi, è un gioco stupendente. È bellissimo questo gioco. Torno. Torna, torna, vai. Salta sopra la ringhiera. Madonna che tu l'hai palesemente toccata. Ma non ci facciamo capire. Ah, c'è un problema. Qua c'è il platform che a me piace da. Ma perché ogni volta che salta deve schiapparsi giù per te? Vai. Anche a là ci sono pezzi. Ah, aspetta che prendo questo. Ok, pezzettini, pezzettini, vai. C'è anche un cuore nello slime che nessuno raccoglierà mai. Esatto. 25, 24, manca un pezzo presumo. Smenti, ah sì. Troveremo qua. Vai. Adà, wasabi. Eh, wasabi. Ok, vai. Io non po' questo vado. Sì, tanto... Oh, cazzo, sto bene. No, perché ti sei... Eh, cosa sono stati? Dai, dai! Ok, dai. Montaci qualcosa di bello! Una barca! Una... Eh, che guarda, guarda, guarda le camera. Ragazzi, una barca! Ah no, è come quei cosi delle... Vai, andiamo, iiiiiiii! Ma io non posso fare... Ma tu quelli di puttano ci spiccia... Ma no, ma mi ha lasciato nello slime! Ma ci ha rotto il coso, lui! Eh, io sono rimasto nello slime, però. Guarda, guarda dove sono. Eh, come fa... Bene. Sono troppo a casa adesso. Non c'è come più. E come facciamo? Oh, ma mi fa ad entrare il gioco anche a me per fare... Ah, sta guidando da solo. Sta guidando da solo? Eh, palesemente con l'autopilota. Vai. A qua è costruire. Costruire questo coso. Tu metà ponti o l'altra metà? No. Oh, ma viva il platform. E anche te. Vai, monta l'altro pezzo. Ma non si monta, eh. Ma come fai a lanciarli là, quei pezzi? Sono super bodelli. A meno se ci arrivo. Eh, tu sì, io no? Uh, dai! Gni, 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 gni. No, per picchiare il tipo! Che sei ucciso. Almeno si... Perché ti lanci così? Ho fatto il doppio salto, ragazzi. Vai! Che voi scoprite che l'utilità del doppio salto è buttarsi per terra, clamorosamente. Come faccio a salire? Ma c'è i pezzettini da raccogliere. Ah, ma li raccogli. Perché serviranno a qualcosa se te li fa raccogli. Esatto. Perché come abbiamo scoperto nei giochi, ci sono le cose e c'è sempre un perché. Dai! Tranne i peli del cane di Fallout. Che sono inguardabili. Dai, raccogli tutto. Eh, non viene tu. Perché poi raccogli tazze, pezzi di braccia. Eh... Proprio così, Gabri! Ah! Gabri è il vero nome di Lello, figa. Ah! Aspetta che non dimenticato... Ah! Non dimenticato uno! Ah! Non dimenticato uno! Sono morto. Perché tu ti fai i casi tuoi. E cosa cambiava? Ne hai dimenticato uno! Ne ho dimenticato uno! Togli dal dietro che continua a morire! Ma che mi sei... Eccolo! Porco Giuda! Ah! Oh! Dai, sono scandato di là! Oh, mamma mia! Ma guarda che qua adesso il mio russolare di paginare. Il tuo personaggio è scarso! E' na... Oh! Cazzino! Ah, questi sul loro! Tranquille, tranquille! Tranquille, tranquille! Ehi! Ridi, ridi! Enigmiste due facce! Ah, doppio, ragazzi! Doppio! Dov'è? Allora, rompiamo l'oro qua. Uno su cinque! Ma non ci vedo più un cazzo! Abbiamo... Aiuto! Schermo davanti! No! Io picco due facce! Eh, io non so dove sono! Ah, sono... Sei incastrato da solo! Due facce! Oh, che salto che ha fatto Giulio facce! Giulio facce! Due facce! Ma che... Oh! Via! Questi li voglio io! Questi li faccio io! Guarda! Abbiamo aperto robe! Ah, ok! Non è da montare! Io ti proteggo! Intanto non è da montare! Io ti proteggo! Non lo stiamo menando! Ah, sì! Ah, ecco perché non è da montare! Poi manca un pezzo! Ah! Proteggimi! Eh, io ti proteggo, sempre! Cos'è sta roba? Non ti preoccupare! Cosa succede? Eh, ma cecchina, come faccio? Ma cosa è successo? È palesemente su... Oh, oh! Eh, ma cecchina! Non ti riesco a proteggere! Vai, io prendo dell'oro e tu prendi l'oro! Forse ho capito! Io no! Eh, in pratica creiamo una specie di scudo! Di scudo, sì! Mamma mia, è difficile ragazzi! Perché poi Lello fa cose con l'aspirapolvere! Mi proteggo qua di... Esatto, esatto! Ottimo! Però qua è pieno di roba! Non... Guarda lo che è arrivato! Guarda la pestaria! Eh, 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 ma perché scappano soldi? Bella, occhio! Mmh, eh, mamma mia! Guarda che l'ho chiuso dentro, guarda! Mi piace un casino il combattimento di sto gioco! Sì, ma è bellissimo! Ah, entra qua, prendi tutto il... Aspetta, io picchio lui! Ecco, tu picchi a lui, io rubo il... Rubo? Io picchio anche lui! Sì, lo sto picchiando solo io! Fidiamo il cambio! Occhio che sparano questi, mafio! Ma quanti sono? Oh, ragazzi, è un'ondata fantastica! Vai, inizia la sopravvivenza! Vai, dammelo! No! Sai che fanno? Mi hai detto troppo tardi, dai! Sai che fanno lì sopra? Guardalo! Sono impazziti! Non lo so! Si stanno... Ah, lo controlla lui! Non ci credo! È impazzito! 5 di 5, comunque! Eh, abbiamo preso il mini kit! Dai che tra poco... Vai, vai su tu, coso, su coso, tu! Eh, ci sta andando! Dai, non... Non la pastiamo! Oh, 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 oh! È clamorosamente fortissimo! Azzà! Su questo qua, questo qua è il cattivo padre! E questo cosa fa? Quello lì è il poppino! Il poppino! Vai, uccidela! DOOM! Grande! Oro! Ecco... Ecco... Forse l'abbiamo fatta, raga... Scusa, ho tu un pezzo di oro in testa, cosa... Che cazzo ridi e balli tu? La 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 la... La 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 la... Lo sguardo sir di Batman... Batman... Ragazzi... Bene! Abbiamo finito anche questo livello completato! Ma abbiamo finito sto capitolo! Vediamo se è finito il capitolo, non lo so, non ne ho idea! Penso di sì! Comunque sia oggi non vado a casa se non finisco il capitolo! Giusto ragazzi! E chiediamo ancora scusa per la telecamera che c'è spenta! Esatto! Non possiamo farci nulla! Era un po' scarica! Coins totali! Vediamo un po'... Voglio sapere se è finito il livello! Fatemi finire! Allora! Dai, dai! Ti prego! Dimmi che è finito sto livello! Dimmi che è finito! Il capitolo! Il capitolo! Dai, 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 dai! Minikit! Punti d'interno! Lo ho trovato io tra le altre cose! Fine storia! Fine storia! Ragazzi! Vi lasciamo alla cazzin finale per vedere... Il fine di questo capitolo! E per una prossima... Ma tu dici poi ci sarà una cazzina! Sì! Penso di sì! Non lo so! Boh! Vabbè! Per vedere la prossima storia ricordatevi! Un mi piace! Una condivisione! Fate conoscere il nostro canale! E a voi la cazzina ragazzi! Bella! Godetevi la bella! Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.